Dumbo, gli aristogatti e le avventure di Peter Pan non meritano di stare sulla piattaforma Disney+. In Inghilterra sono già stati banditi, negati, vietati ai minori di sette anni. In Italia succederà, o forse è già successa, la stessa cosa. Ed io mi chiedo, perché? Anzi, io lo so il perché. Perché questi film non sono stati compresi. Sono film d'animazione, non cartoni animati. E quindi non sono adatti solo ed esclusivamente ad un pubblico di minori o di bambini. Sono adatti a tutte le età, sono film per tutti, che non sempre. Anzi, forse sono più i casi in cui sono adatti solo agli adulti. Mi viene in mente, non so, Shrek. Perché Shrek è un film per bambini? Non lo so. Eppure viene stacciato per cartone animato, perché è stilizzato, è disegnato, non lo so. Però, eppure, eppure questi tre film sono stati accusati di avere al loro interno messaggi subliminali razzisti. Mi viene in mente Dumbo, dove c'è una metafora, non ho capito bene, sugli schiavi afroamericani, non lo so. Nell'Aristogatti dovete spiegarmelo, dove hanno visto questa cosa. Nell'avventura di Peter Pan, penso, per come sono stati raffigurati gli indiani sull'isola, penso. Quindi, ci tengo a dire che sono una parte importante della mia infanzia questi tre film, eppure non sono razzista. Pensate quanto sono strano. Eppure, questi film, film d'animazione, non sono stati compresi. E quindi, oggi, devono essere vietati ai minori, che ha un'atrocità, come distruggere tre capolavori. E voglio chiudere con una citazione, anzi più che una citazione, un messaggio, da Mars Attacks, di Tim Burton. Quel film ci fa capire che l'arte salverà il mondo. Ma qui si sta distruggendo l'arte.